Siamo molto felici di parlare con un pittore nostro concittadino, perché è della provincia di Arezzo, che ha avuto il grande onore di essere sulla copertina del catalogo Montadori. Come ci siamo arrivati? Questo lo sappiamo noi, ma insomma che ce lo racconti te direttamente. Ci siamo arrivati innanzitutto con tanti anni di lavoro, ricordiamoci che, e tengo a dirlo, la mia prima personale è stata fatta nel 1967, poi l'attività espositiva vera e propria a inizio nel 71-72, però sono tanti anni che ormai stanno sui pennelli ed anche sulle spalle artistiche. Il catalogo Montadori, che è un po' la Bibbia del mercato dell'arte, dei collezionisti e di tutti coloro che amano l'arte, nacque 49 anni fa, di fatti questa di cui parliamo appunto è la 49esima edizione. Io mi ricordo che appunto inizialmente nacque come Bolaffi, Bolaffi, poi fu la fusione Bolaffi-Mondadori, sino appunto ad essere oggi gruppo editoriale Giorgio Mondadori. E appunto questa 49esima edizione porta questa mia copertina. Ovviamente all'interno poi vi sono, oltre alla scheda critica, alcune pagine con opere a colori scelte appunto dalla commissione.